Ah, un Tropic non abbiamo Dimmi tutto Elder Ring Siamo arrivati a quel momento? Sì, perché poi giochiamo Ok, Elder Ring ci ha mangiato la vita, almeno a lui In particolar modo, a me Io sono diventato scemo, penso di aver preso 4 kg E... Lo vedo mentre cammino per strada Io pure ogni tanto vedo qualcosa Io vedo l'attacco col salto ogni tanto Nella mia testa parte l'attacco col salto Ragazzi, Elder Ring È forse il gioco più bello Mai uscito da 5 anni a questa parte Forse no, Undertale Quando è uscito Io penso di averne capito il limite Ma comunque Se dovete iniziare da un Dark Souls Questo è il primo Souls che gioco In tutta la mia vita, quindi contate che non ho mai giocato A Dark Souls 1, 2, 3, né Sekiro Né tantomeno quegli altri così là E neanche Blob Bloodborne È così fantastico questo Elder Ring? Sì È un bellissimo gioco Io mi scoccio con questi giochi qua E Dark Souls io non l'ho mai approcciato Perché mi scocciavo Non era tanto il gap di difficoltà Eh ma tutti me l'avete chiesto Come hai fatto 5 milioni Ragazzi Ha farmato per 12 ore Io provengo da un tempo dove i giochi Che andavano di moda erano Fall Fantasy Sono dei giochi che testano la tua pazienza Non a caso io Sono un maestro di montaggio E non mi impazientisco davanti a un monitor Perché ho passato la mia vita a non impazientirmi davanti ai monitor Ho fatto 12 ore di fila Di farming Fino a fare Milioni e milioni di anime È sempre nella zona là? Sì Non sapevo che c'erano altre migliori Eh ragazzi Vi dico Secondo me Perché questo gioco è incredibile No Ok Questo gioco qua è incredibile Secondo me per sverate ragioni Uno Puoi prenderlo come ti pare Questo gioco qua Puoi prenderlo come Puoi andare avanti con la storia Puoi andare in giro per la mappa A fare come cosa ti pare Troverai sempre qualcosa Che solitamente negli open world C'è un punto vuoto In cui non succede niente Qua c'è sempre qualcosa Pochissimi ce l'hanno fatto A fare questa cosa E con pochissimi intendo Zelda Basta C'è sempre qualcosa da fare È tutto difficilissimo Quindi se tu cerchi un challenge in gameplay Puoi trovarlo Se tu vuoi il gameplay di Hello Kitty Dove vai in giro Puoi trovarlo Col gameplay di Hello Kitty Puoi trovare anche spell Esageratamente forti Quindi ti trovi la spell esageratamente forte Ti fai quel gap di cose là Se sei un minimo intelligente Ti metti l'intelletto a 40 E spai la kamehameha Trovando solo andando in giro I boss sono fighi I messaggi fanno ridere Tu non la conoscevi sta meccanica No Famosissimi Io mi flamma Per esempio Ho giocato con Vogelita Con Elena Quando era venuta qua Elena mi flammava Perché io mi fermavo Ad ogni singolo messaggio Bro io mi fermo Ad ogni singolo messaggio E mi metto anche a ridere A volte Ad esempio c'era un messaggio Che ha fatto veramente Ho riso genuinamente In un videogioco C'è incredibile C'era questo messaggio Con scritto Cosa cazzo era Tipo a doppia mano Fai fa qualcosa E c'era C'erano due cavalieri Davanti E c'era lui che faceva Le motte Così Faceva così Aspetta C'era lui così Che faceva così E andava sui pacchi Dei cavalieri E quindi Era doppia mano Ma buco Tipo lavoro doppia mano Ma buco Tipo cose così E faceva questo E andava lì E detto no Questo tizio qua Ma poi un umorismo strano Questo qua È un nuovo umorismo Questo qua Bellissimo Oddio l'ho visto pure io Quel messaggio Più avanti Servirà doppia mano E faceva la cosa così E detto Porco di tu Sei un genio Oggi sono andato In un tempio Che era un tempio Finale di un posto Arrivi E invece di un posto C'è un mob Solo Faccia da battere Sotto scritto Non mi aspettavo Nemico debole Ok Oppure Benissimo No bro Aspetta scusami Anche questo qua Mi ha fatto morire Boh Più avanti cane E c'era una tartaruga Cioè E questa cosa qua Mi va troppo ridere Più avanti cane Vado avanti C'è una tartaruga Questo è un crasso Di Dark Souls bro Qualsiasi animale Che non sia un cane Non lo scrivono Più avanti cane E non lo scrivono mai Quando effettivamente C'è un canide Mai Sempre Questa cosa qua Per me è incredibile Mi ha fatto troppo ridere Oppure Oggi sono andato C'è un punto Te lo spoiler Dove Il boss Non è il diritto Ma diritto Questa cosa qua Ma non hai il diritto Ma cosa vuol dire questa cosa Che ti mettono nelle porte Che non puoi aprire ancora Non hai il diritto Ma non hai il diritto Tu non hai il diritto Ovviamente ragazzi Per chi non è Per chi non ci ha mai giocato Comunque I messaggi che scrivete Sono prestabiliti Cioè ci sono delle parole Tu non puoi scrivere Quello che vuoi te Tu devi scegliere Tra un setting di parole Che ti danno Preimpostato E tu scegli le parole E compongi la tua frase Per quello che è geniale Cioè? Ci sono delle side quest Dove vedi questo ramascello bianco In mezzo al niente Lo clicchi Ok E c'è una apparizione Che tu devi seguire E tutta la strada Che lui segue Ci sono dei messaggi Che lo incitono ad andare avanti E fai vai vecchio pazzo Questo è il momento Di vecchio pazzo Questo è il momento Di vecchio pazzo Ho battuto un boss Questo boss è la tua figura Cioè la tua copia Ok Ha la tua arma Ha le tue magie Figo Ha molta vita Ma ti dà la spell Che poi ti replichi No Ok Infatti pensavo Questo cosa mi hai detto tu Quando lo batti Mi ha fatto il messaggio Non pensavo Di trovare nemico debole E questo non È un doppio comicità Perché non solo Quella era debole Perché sei stesso Sì 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 Non pensavo nemico debole Comunque questo qua È un gioco Che mi fa sentire scarso Ogni secondo di gioco Però io sono fortissimo E ancora mi sento un coglione Io ho farmato Nel senso che Ho fatto Godric Dopo Godric Ho detto ok Se questo è Godric Vuol dire che dopo sarà peggio Cosa che non è vera comunque Quindi mi faccio un giro Mi faccio un bel giretto Godric è il peggio Perché ancora non sei un cazzo Vero E forse Ho trovato più difficoltà In realtà con il primo Che è Magnis Quello là che fa E io Magnis parlo No Godric è il drago Quello che fa Io trovo più difficoltà col primo Io ho molto più difficoltà col primo Anche col secondo un po' Però già col secondo Me l'ho messo a farmare E anche a capire il salto Le cose E poi io gioco una ragazzi Una build merdosa Io gioco le dual Di cazzo Ma poi che livello siete ragazzi Margit Margit Io sono al Io sono al Sessanta Settanta credo Io gioco con le dual E ragazzi Vi giuro che io ho trovato Adesso Dopo Trentasette ore di gioco Circa Tu ne hai novanta Quante ne hai tu Settanta Settanta Quindi già il doppio Io dopo trentasette ore di gioco Ho trovato la mia prima arma a una mano Perché ho detto Ragazzi Io ho cominciato con le dual Quindi doppia scimitarra E ho detto Voglio finire il gioco Con la doppia scimitarra Perché mi piace Oggi ho trovato una spada Potentissima Potentissima Due mani? No E' una spada corta Dove? Dimmi dove Per favore Bro è l'arma più forte che ho Ti prego dimmi dov'è Non ne posso più di giocare con la scimitarra E' nel maniero Dell'accademia Dove ci sono le mani? L'accademia? E' nell'accademia? Le grande mani Si E' là E' là? E' lì? Si Godo ci sono Sono lì proprio Bro cercala Cercala C'è una spada? Non c'è una spada E' la più forte che ho Cambiato io Non ho più la La barna No bro che bello Ti prego E' la cosa che ho fatto oggi Si Quella E' quella? Si chiama E' la spada Delle notti ardenti Con Tu fai R1 R2 per attivare una stance Si No L2 L2 fa una stance Se fai R1 Ti fa Il raggio E se fai R2 E fa una ventana di fiamme Che toglie mille Almeno a me Io sono forte Molto Forse il più forte di tutti Sono il più forte Sei fortissimo Ho visto prima Hai tantissima vita Tantissime MP Tantissimo tutto Spada della notte Delle fiamme Delle notte ardenti Si chiama Ma giochiamoci in live Che se tagliamo Allora Vi spiego un po' E' da un po' di giorni Che a Marco Tiro questa cosa qua Perché Non lo diranno Di sicuro Ok Non voglio il loro parere Vi dico solo quello che ha fatto Poi Vediamo come va Che livello è Nanni? Nanni è affinito E che livello è? Non lo so ma ha finito il gioco Che livello è? Non lo so che livello è Che livello è Nanni ragazzi? Mi ha scritto prima comunque 150 Nanni Nanni è tipo 170 Noob Tu quanto sei? Quanto sei tu? Altino Quanto sei? Dillo Perché? Non dirlo Cosa? Non dirlo Perché no? Ti vergogno Ti vergogni? Sì Dillo e basta No Fai schifo No 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 Fallo vedere Dai facciamolo vedere No 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 Apri il del ring Apri il del ring e fallo vedere Dai Ragazzi Vedete un attimo Cosa significa essere Marco Merrino In questi giorni No vi prego dai Ok Vi faccio un piccolo Un piccolo preludio A questa cosa qua Io torno a casa E sento sempre Il del ring E sento questo Ogni circa Due tre minuti Sento questa cosa qua Sei tu che lo fai sempre Alle 4 5 di mattina Anzi 10 11 Di mattina Mentre sto dormendo Sento dei piccoli Wormle Fortissimi Mentre sto dormendo Detto questo Marco ultimamente Sento solo il del ring Cioè è chiuso qua in camera Dove siamo adesso Non ha fatto altro Da quando ci sono Non ha fatto altro Non ha fatto altro Io ogni tanto entro comunque Vosto e dico Marco ma perché Visto che è il mio primo souls Facciamolo in live Ma tipo ricominciamolo da zero E lui mi dice sempre di no Ricominciamolo da zero E mi dice di no Ricominciamolo da zero E mi dice di no Secondo Non apriamo il del ring Sono 253 Apriamolo Non ci credo Se dicono che è fake Voglio vederlo io Fammi godere Fammi vedere quanto faccio schifo Da 1 a 10 Ok questa è la spada Questa è quella spada? Questa è quella spada? Nella Ok Mi uccidi qualcuno? Tutto più cinto Che dice la chat? Mi succhia il cazzo? Vediamo Dai metti stato Tanto per far vedere il livello Guarda qua bro Guarda Guarda bro Cosa? 859 850 Io non faccio niente del genere Ma proprio zero Ma come? Non lo so Mi pare che abbia lo scaling su tutto Guarda Pazzesco Mi sento uno stronzo bro Mi sento veramente una merda Bro ho perso la mia vita Con questo gioco 69 ore 60 di farming Sei pure nella zona segreta Ma quanto mana? Sì infatti Ma tutto Mana Vita Pazzesco Ma quel coso là che ti spara Ancora non ho capito Ma poi le pozze ti curano tutta la cazzo di vita Bro sei veramente incredibile Ho gioco troppo Questa cosa è veramente da malati di mente Quanto ti serve per fare un livello? 500 mila 500 mila Non hai capito bro Cosa? Bro non hai capito 12 ore Di farming 5 milioni di anime Mezzo milione Con l'amuleto Con l'amuleto E con il raddoppio Il dito pure Ti tiravi il dito 10 milioni Ma tu non hai vero Sto gioco è bello però È troppo bello E sapete cos'è? È che Cioè ogni volta che gioco con qualcuno Comunque che vedo qualcuno che ci gioca La prima cosa che gli chiedo è Fammi vedere la tua mappa Ditemi se non è la La prima volta in assoluto Che tu chiedi a qualcuno Dimmi come la tua A te manca il vulcano Capito? Cioè a me viene da ridere perché Io ho la mappa più grande della tua Ma tu sei Me lo sono rovinato Te lo sei un po' rovinato Forse te lo sei un po' rovinato Perché io ho veramente la mappa più grande della tua E non ha senso di esistere questa cosa qua Dove farmi? Ma l'hai finito almeno? No che non l'ha finito No Marco ma dove farmi? Tutti vogliono sapere dove farmi Forse nessuno lo saprà mai Basta via Perché dice 58 Ma su Steam 60 Perché mi ha tolto il salvataggio Ah ha tolto il salvataggio È vero Porco dio Dani tu lo stai giocando in modo sano Però sono sempre arrabbiato Quindi no O forse è giusto Perché sei sempre arrabbiato Dici dove farmi Minchia bro No no Giocate al videogioco Marco ma farmare 12 ore Ti diverti o diventi un cinese allenato? Vi posso spiegare benissimo tutto Le prime tre ore passano easy Perché come vi ho detto Vengo da un momento dove i Final Fantasy Daniele pure lo sapeva Vero vero pure io Uguale A quattro ore arriva la noia E la noia la puoi far passare solamente Se metti un sottofondo Vedi sottofondo Cioè devi mettere un sottofondo Dopo che i primi tre Dopo che i primi tre Kung Fu Panda E tutti i Transilvania finiscono Sei circa Alla decima ora E là No ragazzi Ad un certo punto diventa meccanico Io riesco ad arrivare a due ore di farming Forse tre massimo Poi fermo Ma poi ho passato Un cinque settimane Dove mi svegliavo alle otto di mattina Per giocare Il massimo che ho fatto è 500.000 Per esempio 500.000 Sì Mi sono fatto Cioè il campo Quello là Ah sì Ok Eh Me lo sono fatto Sì Quella Che per la zona di farming Del gioco Dove c'è Il capo Quello là Davanti al castello Capito il capone Eh Ve lo sono fatto Cinque volte Sei Poi ad un certo punto Tutto però Cioè fai là Fai il giro sotto Perché c'è anche il giro sotto Quello lì del veleno Da quando me l'hai detto Ho cominciato a farlo Con il drago te ne fai un botto Ma ah non usi dei live di Nanni come Ah non usi dei live di Nanni come sottofondo No No Lui forse usa Comunque Marco sembra Surreal Power Ce l'ho fatta finalmente Cioè tu comunque al 250 hai tutto Abbastanza tutto Giochi pesante Non ho fatto Non ho fatto Fed E Arcano Arcano Ragazzi Arcano serve a qualcosa Domandone che mi sono chiesto Perché intelletto spari le magie del porco di Dio Fede ti fai i sacramenti e ti curi Mentre Arcano cosa gran cazzo fai Cioè qualcuno che lo sa Cosa state capendo della lore Che bisogna ammazzare quattro cattivi E che c'è sicuramente qualcuno che ha quell'anello Quell'anello che tanto noi bramiamo E' sicuramente un boss cattivo E' viva anello ancestrale E' viva anello ancestrale No bro comunque Che meme Sono troppo bravi Anello Arcano Quale Drop rate Drop rate L'Arcano ti aumenta il drop rate Ma che nobio di merda che non lo so Anello verme Anello verme Prova lingua ma buco E' un peccato E' un grosso peccato perché Se mi avessero reso la trama un pochino più fruibile E tu pensa che in questo è quella che dov'è più fruibile E' più fruibile In questo è quello dov'è più fruibile La gente parla molto Su Dark Souls sono tutti Come stai Che cazzo rini Scusate se ho riso Intanto nella live di San Baku Lui ride perché lui sa tutto Però che palle Cioè La lore di Dark Souls i primi Era tutta scritta negli oggetti Tu dovevi va Nei muri Comunque Sabaku si è fatto Vaffanculo Eh si Vaffanculo Esattamente come la penso io E come se Non voglio fare l'archeologo Voglio giocare a un gioco E' più che altro Questa questa sensazione qua Che mi ha appena descritto E' la stessa sensazione che ho avuto in Pokémon Quando mi parlano della lore di Pokémon Diceva ma tu non hai letto il libro Nella biblioteca Del coso No Ho catturato Picrus Ho combattuto No Volevo combattere Volevo giocare Non ho pensato minimamente al libro geoglifico Del porco di Dio cane E non mi va neanche Sai che è il più esplicito come trama Vero però Quello è proprio diverso Minchia sai che non bro Dai non hai idea Il The Ring ha una trama in confronto Alla lore di Dark Souls Eeeh Ve l'ho detto ragazzi Questo è il primo Soulslike Che ho giocato in vita mia Perché Dark Souls Per qualche motivo L'ho guardato Ho detto no Grazie Non mi andava Ma non per difficoltà Ripeto Ma perché non Mi sembrava povero Mi sembrava un gioco povero Secondo me L'unica cosa che ti sei perso Per te Per te Di Dark Souls E' che hanno Radicalmente cambiato Il mondo dei videogiochi Tutti hanno Porco Dio Mi hai detto la frase più incredibile di sempre Tutti hanno iniziato a E questo Esatto Questo è l'unica cosa che ti sei perso Perché comunque come gioco Farmone Ma a un certo punto Ti rompi le palle A un certo punto Ti rompi le palle Ok Esempio Ho visto un po' di critiche Perché mi guardo le critiche Che hanno fatto Da Elden Ring E una delle critiche Che hanno fatto più I Souls players Non vedo l'ora di saperlo Eccomi Eeeh Hanno detto Che per esempio Su Dark Souls Tu ti finivi la tua run Questo dimmi tu Se è vero o meno Penso di sì Comunque non penso Che sia una cazzata Ti finivi la tua run In Strength Se volevi Te la rifacevi in Dex Se volevi Te la rifacevi in Int Mentre qua È impossibile Fare questa cosa qua Perché è effettivamente Un gioco enorme Quindi se tu ti vuoi Ricominciare la run No ma Se la ricominci Hai gli stessi livelli In che senso? Cioè tu Vuoi fare il new game Hai le stesse stats No? Non lo so Immagino di no Ah sì? Immagino che ricominci Da capo Non lo so ragazzi Ditemi voi Cioè io ho visto Che c'era questo ragazzo qua Che diceva Io in Dark Souls Posso ricominciarmi la run E rifarmela con Dex E quindi posso Giocare Sì 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 cosa Agli stessi livelli Ti rimane tutto Ok No è pure Quelli di prima C'è il respect Qui ha detto Una cazzata questo Ma infatti Ma ha detto Ma questo qua Dov'era? Un giornalista? Era un tizio Che ha fatto un video Era un tizio Che ha fatto un video E si lamentava Di questa storia qua Nel ring C'è il respect Ragazzi io non so Non ho giocato A Dark Souls Ripeto Il primo Soulstrike Che gioco Dico quello Che leggo Miettanto in giro Quindi magari Una cazzata Ma come le preferisci Dark Souls 1 Ed Sekiro Sempre Sekiro Miglior soul life Ma perché? Perché non è Farm based È skill based Ok Cioè? Devi essere bravo Non ho mai giocato Devi essere bravo L'ho visto da te Ogni tanto Non devi per forza Farmare Farmare È troppo bello È più bello Sekiro O Elder Ring È più bello Sekiro È più bello Sekiro Minchia Ma Inequivocabile Perché è più bello? Perché è così più bello? È l'astore più emozionante Non è baga Come Comunque Mettere le comparison È strano Perché Ovviamente È più grande Elder Ring Io a volte vado nei posti Dico ma pure qua Devo fare qualcosa Ok È troppo grande Forse c'è una maniera brutta È troppo grande A me Elder Ring Sta piacendo Tantissimo Il Ring è bello È secondo me Chi lo critica È un figlio di Troia È vero è vero Vuole solo trovare il pelo nell'uovo Sì 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 Un grande uovo Un enorme uovo di Pasqua Buonissimo Ti giuro Io da un po' che Da quanto tempo Da The Binding of Isaac Che non passo più di 30 ore Su un videogioco Su The Binding of Isaac Noi passate 800 Che però Quello è un altro discorso Minchia Però È da tantissimo tempo Che non passavo così tante ore Sullo stesso videogioco Non passavo su The Binding Là è qua qua C'è il terzo 344 Unendo quelle là Chissà nella Switch Quanto avevo Vero Tu oppure la Switch Io avevo fino al 100% Senza Però l'espansione prima Eh senza Questa espansione qua È malattia pura Cioè tu ti tinta E devo dire che Quadruplichi le ore di gioco Devo smettere di giocare Nel The Ring bro Devo riprendere in mano La mia vita È un po' vero Ti stai mangiando Però Posso dirti che è una cosa bellissima E io era da tanto Che non ti vedevo neanche a te Giocare così Tanto Io così non ho mai giocato Tanti a qualcosa Io mi ricordo che hai giocato Che ti sei infognato A Watch Dogs Che hai giocato tanto Per qualche motivo Per qualche motivo Dishonored forse Dishonored Hai giocato Dishonored Sì ma non così Non così Però l'hai giocato E questi qua li rasciavi comunque Cioè giocavi tanto Giocavi tanto Per In un lasso di te Anche a Cyberpunk E hai giocato tanto In un piccolo lasso di tempo Cyberpunk Quanto ho fatto Non si sa perché non è su Steam A me non lo era Ehm Se è 170 se non sbaglio Quanto? Cyberpunk 170 Veramente? E comunque ti hai rinfognato tantissimo Finito il 100% Però qua bro Ti sei ammalato E sono contento Perché Dio Cane È un bel gioco Finalmente È finalmente uscito Un bel gioco È un bel gioco 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 Un bel gioco